eccoci ai nostri microfoni con mister sauro mugnai allenatore in seconda del giallo blufilline oggi in panchina per la squalifica di mister bernini mister oggi che partita è stata beh è stata una partita difficile come si sapeva già dall'inizio poi dopo l'espulsione si è complicata molto di più per noi un'espulsione dopo nemmeno un quarto d'ora così rimanere in dieci contro una squadra organizzata come il lanciotto è stata dura però paradossalmente abbiamo regalato diciamo i primi 20 minuti e dopo in dieci siamo rinompattati un attimino e abbiamo giocato una buona partita a livello di agonismo e anche di gioco perché poi abbiamo contenuto bene Figline che infatti nella seconda metà del primo tempo si è resa molto pericolosa con due occasioni importanti che potevano arrivare al gol Figline che oggi ha fatto una partita nonostante la sconfitta molto molto generosa mister è generosa però è già anche domenica abbiamo fatto la generosa e non abbiamo preso punti questa è la seconda domenica e la facciamo generosa senza raccogliere niente questo dispiace un po' però analizzando bene la partita se vuoi vedere noi abbiamo avuto delle buone occasioni sia nel primo che nel secondo tempo perché noi anche sul finale fra Emiliano Frediani Pagnotta prima nel primo tempo Vannini Sirei noi abbiamo avuto delle occasioni cosa non ha avuto loro poi loro hanno giocato bene da squadra in maniera compatta con un giocatore esperti però se noi riusciamo a concretizzare l'occasione così potrebbe essere un risultato positivo e anche un pari che mi sembrava non giusto giustissimo poteva essere ci poteva dare quella spinta o quella soddisfazione ripagando la prestazione abbiamo fatto oggi in campo la grinta non per fare polemia a questo punto ma oggi forse i figlini può lamentare anche un paio di decisioni dubbe dell'arbitro vabbè questo fa parte del gioco e se può lamentare tante però attaccarsi a questo io non voglio parlare dell'arbitro perché altrimenti è scontato no ma hanno visto tutti ha visto addirittura secondo me ha visto bene l'arbitro ha visto bene i segnalini ha visto ho parlato di come sarebbe tutti hanno visto quello è successo però non voglio parlare di quello perché sembrerebbe una scusante noi io non voglio voglio che la squadra invece rifletta su quello che non ha fatto bene ha detto una parola importante è quella della riflessione quindi con quale atteggiamento mentale la prossima settimana il figlini andrà albinia l'atteggiamento mentale è quello normale della felinese che nonostante la sconfitta domenica martedì anzi analizzeremo bene tutto quello lavoreremo in maniera tranquilla ma abbiamo fatto infine ora perché non ci siamo esaltati dopo le tre vittorie consecutive le quattro vittorie consecutive e così non ci abbattiamo ora abbiamo perso due partite due partite perse fatte però sempre con prestazioni e questo ci dà la forza di sperare e di lavorare per arrivare a risultati positivi che possano venire tranquillamente da domenica un bocca al lupo e buon lavoro questa settimana grazie crepi il lupo buon lavoro siamo qui in compagnia del capitano del lanciotto campi mugnaini un ex della partita innanzitutto capitano come tornare a figlini dopo tanto tempo è una bella emozione perché per me sono stati due anni a del poco indimenticabili per quello che abbiamo fatto per il gruppo eravamo per i risultati cioè io ce l'ho sempre nel cuore e penso che sarà un ricordo bellissimo ed è stata una bella emozione tornare qua dopo tanti anni veniamo adesso alla partita lanciotto campi che oggi è venuto qui a figlini a giocarsi la partita a viso aperto e senza nessun timore di reverenziale nei confronti della seconda classifica si sapevamo che incontravamo una squadra in forma con cioè composta da giocatori validi quindi abbiamo cercato di giocare di imporre un po il nostro gioco perché magari se lasciavamo il palino del gioco al figlini avremmo avuto delle difficoltà infatti qualche volta quando ci hanno attaccato siamo andati un pochino in difficoltà però obiettivamente ci ha aiutato molto il fatto dell'espulsione di Meacci che loro sono rimasti in dieci però per noi è un risultato troppo importante questo qua. Ha nominato l'espulsione di Meacci che è avvenuta la metà del primo tempo è un episodio che indubbiamente facilita una squadra quando si ritrova per più di un tempo e mezzo a giocare in superità numerica. Sì senza ombra di dubbio ci ha facilitato penso che i primi minuti comunque stavamo facendo una buona gara. Avevamo tra virgolette il palino del gioco in mano non avevamo rischiato niente anzi avevamo avuto un paio d'occasioni noi importanti e poi questa questo episodio logicamente ci ha permesso di di organizzare e pensare a una partita differente di quello che poteva essere. È andata bene e siamo contenti da questo punto di vista. Una vittoria così importante poi penso durante la settimana dà anche una motivazione in più per lavorare in vista della prossima partita di campionato? Fondamentale. Venevamo qua in un campo difficile contro la seconda in classifica che praticamente credo non aveva perso la prima partita domenica e quindi sapevamo che era una gara difficile. Per noi era fondamentale fare punti. Siamo riusciti a farne tre e alla fine a giocare anche una discreta gara. Siamo contenti, va benissimo sì. Siamo in compagnia di Emiliano Frediani, attaccante e capitano del giallo-blu Figlini. Quest'oggi per Figlini è stata una partita difficile però forse caratterizzata anche da diversi episodi sfortunati. Che ne pensi Emiliano? Molto caratterizzato da episodi sfortunati dipende da punti di vista. Penso che oggi dopo tre minuti il portiere di loro è uscito fuori con le mani e lì c'è la espulsione diretta e non l'ha data. Poi per doppia munizione ha buttato fuori forse giustamente Meacci però secondo me oggi diciamo che ne ha combinate diverse l'arbitro che veniva dalla Sardegna. Però dai non attacchiamoci all'arbitro. Penso che era una partita che anche in dieci potevamo portare almeno un punto a casa perché alla fine se si sta a vedere le occasioni che hanno avuto le hanno avuto su 11 contro 11 nei primi 20 minuti. Poi nel 10 contro 11 credo che occasioni più 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 nitide più noi che loro però abbiamo fatto questo errore di forse di presunzione siamo rimasti alti e abbiamo preso questo gol. Figline che comunque aveva reagito bene all'inferiorità numerica aveva creato un paio di occasioni molto importanti sul finale del primo tempo e aveva chiuso in attacco. Sì ma a parte se è chiuso bene il primo tempo anche il secondo tempo siamo ripartiti è normale essendo in dieci loro ci attaccavano e però noi non si è sofferto più di tanto anzi si ripartiva anche abbastanza bene e forse è stato proprio quello che si ripartiva bene e si voleva vincere a tutti i costi però a volte queste partite bisogna bisogna capire quando è il momento di prendere di prendere anche almeno un punto perché a volte un punto è meglio di zero non a volte di sicuro. Questo è vero però nel calcio d'oggi dove forse troppo spesso c'è troppa tattica è importante sottolineare l'atteggiamento del Figline che ha ricercato comunque i tre punti anche in inferiorità numerica è stata una prova molto molto generosa e penso sia giusto sottolinearla. Sì molto generosa penso che abbiamo fatto una buona partita un po' tutti siamo sacrificati tutti Pagnotta si è messa a fare l'esterno destro io io che stavo stavo là davanti e cercavo di tenere palla di fare di fare qualcosa per riuscire a portare a casa un risultato positivo e purtroppo sono qui a dirti che si porta a casa zero punti però con la consapevolezza che se ci siamo ci siamo con la testa ci possiamo divertire ora è un periodo che le cose non vanno veniamo da due sconfitte però speriamo di riprenderci subito perché siamo sempre lì e la classifica è cortissima e dobbiamo cercare di fare i più punti possibili per arrivare al nostro obiettivo. Lo spirito mi sembra ci sia quindi come ha sottolineato giustamente te quindi come si lavorerà questa settimana in vista della trasferta di albinia ma sarà una trasferta difficile dobbiamo cercare di capire dove dove abbiamo sbagliato e continuare e continuare a allenarci nella maniera giusta come stiamo facendo e a lavorare durante la settimana che sicuramente come abbiamo visto i risultati arrivano I don't care I love it I don't care I don't care I don't care I don't care Grazie a tutti.